Allora, buonasera a tutti i partecipanti qui presenti. Ringrazio di cuore. Sono Patrizia Trimboli, ideatrice di questo cammino intitolato La terza via. Una via che ci consente, nel tessuto sottile della virtualità, di dar voce a pensatori che ci convocano a una riflessione profonda sulla realtà. Il poeta Antonio Rossi ci parlerà dei microgrammi di Robert Walser. Robert Walser è una figura di grande rilievo tra la generazione di scrittori, mediante i quali si attua la rivoluzione della letteratura moderna, lo smembramento della totalità e la scompaginazione del grande stile classico. Antonio Rossi, nato nel 1952 a Maroggia, Canton Ticino, ha pubblicato le raccolte di poesie ricognizioni, Casa Grande 1979 e 2001, Diafonie, Shea Wheeler 1995, Sesterno 2005 e Brevis Altera 2015, entrambe presso Book Editore. Oltre a Walser, ha tradotto leggenda di Paul Vue, Galleria Mazzoli 2015 e l'uomo flottante di Jean Flaminat, Book Editore 2016. Ha curato l'edizione commentata delle rime di Serafino, Aquilano, Fondazione Bembo, Guanda 2002 e Bulsoni 2005. Bene, passo la parola al poeta Antonio Rossi. Ringrazio per la sua presentazione, Patrizia Trimboli e cercherò di parlare di questo argomento, i microgrammi di Robert Walser, anche se devo dire che non mi considero uno specialista, uno studioso in senso stretto di Robert Walser, sono piuttosto un suo lettore, un lettore che a volte ha avuto il desiderio di tradurre alcune delle sue composizioni poetiche con l'obiettivo di stabilire con il testo una maggiore aderenza. Mentre era in vita, Robert Walser era conosciuto per i suoi romanzi, i fratelli Tanner, l'assistente Jakob von Gunten, per le sue prose brevi o per il racconto lungo La passeggiata, uscita nel 1917, perlomeno la prima versione di questo racconto. Nessuno, salvo il giornalista e scrittore zurighese, nonché tutore di Walser, Karl Selig e verosimilmente la sorella Lisa, era al corrente dell'esistenza dei cosiddetti microgrammi, emersi soltanto dopo la morte dell'autore. Ci si può domandare in che modo i microgrammi, a lungo rimasti sommersi, siano affiorati. Una serie di manoscritti di Walser erano stati consegnati nel 1937 dalla sorella Lisa a Karl Selig e oltre a ciò, qualche mese dopo la morte dello scrittore, un medico assistente della clinica psichiatrica di Yarisao, nel cantono a Penzello, spedì a Selig una vecchia scatola per le scarpe, diventata leggendaria, contenente vari manoscritti dell'autore. Sono queste, si ritiene, le due vie attraverso alle quali i microgrammi sono giunti prima a Karl Selig e successivamente a noi. È forse utile precisare cosa si intende quando si parla di microgrammi. I microgrammi sono dei fogli o più spesso dei foglietti di vario tipo sui quali l'autore tra gli anni 1924 e 1933 scrisse a matita con una grafia microscopica i suoi testi. Ne sono sopravvissuti, di questi fogli e foglietti, 526. Sono conservati a Berna presso il Robert Wasser Zentrum. In realtà sono oggi in deposito presso l'archivio svizzera di letteratura. L'autore utilizzò per scrivere a matita le sue composizioni dei fogli per stampa d'arte, dei fogli di calendario, ritagli di buste, moduli, ricevute, avvisi di pagamento, lacerti di svariato genere. Questi supporti sono talvolta di esigue dimensioni. Ho preparato alcune immagini che vorrei mostrare per fornire una esemplificazione. Allora, questo è un microgramma. Il microgramma è riportato anche sulla locandina che annunciava questo evento. Sono dei testi scritti con matite diverse, come si può notare, su un avviso di pagamento del Berliner Tageblatt. Passa a un'altra immagine. Questo è un microgramma che figura sulla copertina di un catalogo, di una mostra, organizzata a Mendrisio nel 2015-2016, curata da Chi vi parla, in collaborazione con Simone Soldini, direttore del museo, con Anna Fattori, Reto Sork e Lucas Gysi, questi due del Robert Walser Centrum di Berna. Qui Walser ha scritto i suoi testi su una fascetta postale. c'è la quarta di copertina. Sono cinque testi, quattro, cinque testi scritti su una striscia di carta ingiallita. Qui le dimensioni sono veramente esigue, sono sette centimetri per quattro, e uno dei microgrammi con le dimensioni più piccole, questo. C'è un'altra immagine. Questo è un dettaglio dall'allestimento della medesima mostra. Qui l'avevamo chiamato un po' la selva dei microgrammi, sempre a Mendrisio. Il primo a dar notizia di questi singolari manoscritti fu Karl Zellig, in un articolo apparso nell'ottobre 1957 sulla rivista zurichese Du. Occorre ricordare, fra l'altro, che Walser aveva espresso il desiderio che dopo la sua morte tutti i suoi manoscritti venissero bruciati. Zellig quindi non rispettò questo desiderio. Scriveva Zellig sulla rivista Du. E qui cito un passo. La scrittura segreta e indecifrabile, inventata e impiegata dall'autore negli anni venti e in seguito all'inizio della sua psicosi, va probabilmente inteso come un timido tentativo di sfuggire all'attenzione del pubblico e un affascinante mimetismo calligrafico volto a nascondergli i suoi pensieri. Questo diceva Karl Zellig. La scrittura dei microgrammi era dunque, secondo Zellig, indecifrabile ed era forse da intendere come una forma di mimetismo calligrafico. Dopo la morte di Zellig, avvenuta nel 1962, i microgrammi furono studiati da Johann Greven cui, fra l'altro, si deve la cognazione del termine microgramma. Greven mostrò che questa grafia microscopica era decifrabile e pubblicò in una sua edizione delle opere di Walser, Ricavandri dei microgrammi, il romanzo Il brigante e le Felix Szenen. Restavano, a questo punto ancora da decifrare, centinaia di testi affidati ai microgrammi. Questo lavoro è stato compiuto fra il 1985 e il 2000 da due studiosi, Bernhard Echt e Werner Morland, cui si devono i sei volumi intitolati Aus dem Bleistiftgebiet, dal territorio della matita. Il lavoro di decifrazione è stato condotto non con mezzi elettronici sofisticati, ma mediante una normale lente di buona qualità. E dovrebbe essere questa, presente al centro di questa composizione, sempre riferita o preveniente dalla mostra organizzata al Museo d'Arte di Mendrisia. Bisogna anche aggiungere che da alcuni anni è in corso una nuova edizione integrale dell'opera di Walser e in particolare dei microgrammi, a cura di una equipe di studiosi diretta da Wolfram Grodek. L'espressione territorio della matita, che figura nel titolo dei volumi pubblicati da Echt e Morland, è stata usata da Walser stesso in una lettera del 20 giugno 1927, indirizzata al critico letterario e scrittore Max Richtner. In questa lettera l'autore riflette sul proprio lavoro con la matita, senza tuttavia parlare di micrografia, quindi questo aspetto era stato da Walser, a rigno gelato, e ne designa il campo d'azione con l'espressione Bleistiftgebiet, territorio della matita. Quello della scrittura a matita era per Walser un vero e proprio metodo di lavoro, come lo scrittore dichiara nella medesima lettera attraverso il termine Bleistift System, sistema, metodo della matita, un modo di procedere che gli concedeva, rispetto alla scrittura in penna, per la quale afferma di aver avuto avversione fin dagli anni berlinesi, una maggiore libertà. Cito dalla lettera a Richtner. Devo, scrive Walser, al sistema della matita, combinato con un successivo sistema di copiatura simile a quello praticato in un ufficio, dei veri tormenti, ma questi tormenti mi hanno insegnato la pazienza, al punto che sono divenuto un artista nell'arte del pazientare. E più avanti c'è stato un periodo in cui l'autore di queste righe fu preso da una versione atroce, terribile, per la sua penna e per liberarsi da questo disgusto per la penna cominciò a scrivacchiare a matita, a disegnucchiare, a pasticciare. Grazie alla matita potevo meglio giocherellare e comporre. Mi sembrava che, grazie a essa, il piacere per la scrittura risuscitasse. Posso assicurarle, e ciò era già cominciato a Berlino, che ho assistito con la mia penna a un vero cedimento della mano, una sorta di crampo della cui morsa mi sono a fatica e lentamente liberato tramite la via della matita. Ho attraversato un periodo di logoramento che si rispecchiava, per così dire, nella mia scrittura, nel suo disintegrarsi e trascrivendo ciò che la matita mi dettava, come un bambino, ho di nuovo imparato a scrivere. Quello che trovo interessante, tra l'altro, è il fatto che Valser qui dica alla fine della citazione, trascrivendo ciò che la matita mi dettava, cioè è la matita che detta all'autore ciò che l'autore deve scrivere. Il metodo della matita è pure tema di riflessione in una prosa di Valser, Bleichstift's Schizze, Schizzo-matita, composta probabilmente nel 1926. Scrive in questa prosa Valser, se posso dire ancora qualcosa di me stesso, riferisco di come abbia iniziato a redigere la mia prosa con la matita prima di trascriverla a penna con la miglior cura possibile nella sua forma definitiva. Un giorno mi accorsi che passare subito la penna mi rendeva nervoso. Per calmarmi, decisi di servirmi del metodo della matita, ciò che significava, però, allungare la strada con fatica accresciuta. E più avanti, mi sembrava, tra l'altro, di riuscire a lavorare con la matita in modo più sognatore, più tranquillo, più confortevole, più riflessivo. Avevo l'impressione che il metodo di lavoro qui descritto si fosse trasformato per me in una particolare forma di felicità. Il lavoro di studio e decifrazione dei microgrammi ha permesso di riconoscere, all'interno del metodo della matita, l'esistenza di due livelli operativi, ai quali del resto Bass stesso aveva esplicitamente accennato, consistente, il primo livello, nella redazione micrografica dei testi, il secondo nella ricopiatura con penna in bella grafia di quelle composizioni che l'autore intendeva inviare a quotidiani e riviste. Nel passaggio dalla micrografia alla bella copia sono stati coinvolti all'incirca la metà dei testi ospitati nei microgrammi, a noi pervenuti. E' interessante notare che il lavoro di ricopiatura, la bella copia, viene paragonato dall'autore a quello praticato in un ufficio. Bass stesso, come è noto, aveva lavorato in diverse banche, compagnie di assicurazioni. C'è un'immagine che è tratta dal volume di poesie di Robert Walser, Giediste, Berlino, 1909, Bruno Kassirer, ed è un'immagine, un'incisione del fratello di Robert Walser, cioè Karl Walser. E' la prima immagine che si incontra e dovrebbe illustrare, tra virgolette, la prima poesia della raccolta in ufficio. E qui il protagonista, che è alterego di Walser, viene raffigurato come un copista, un amanuense, un calligrafo, per riprendere un termine che dà il titolo a un saggio di Calasso, il sonno del calligrafo. Questo è anche singolare, fin dall'inizio. C'è una poesia, tra l'altro, che risale al 1898, scritta quando l'autore aveva vent'anni. E' singolare che l'autore venga presentato appunto in questa veste, o significativo perlomeno, più che singolare, che venga presentato in veste di amanuense. Molti si sono chiesti quali possono essere le cause della micrografia di Walser. Le ipotesi avanzate sono molteplici. Alcuni ritengono che la micrografia sia la manifestazione di un fenomeno compulsivo da collegare ai problemi psichici di Walser. Per altri, la grafia sempre più minuscola, il ritirarsi nel guscio della micrografia, sarebbe da interpretare come una anticipazione di quel silenzio di Walser, come scrittore, durato dal 1933, anno del trasferimento a Yerisau, fino alla morte, avvenuta nel 1956. Per altri ancora, si tratterebbe di una scrittura segreta, volta a proteggere il suo lavoro da occhi indiscreti e dalla curiosità delle sue affittacamere. Ancora c'è chi ha sostenuto che si tratterebbe di una forma privata di stenografia, se non che, osservando i microgrammi, si ricava l'impressione che l'autore volesse non accelerare, bensì rallentare il processo della propria scrittura. Questo si vede anche dalla costruzione accurata e artistica della pagina, che ricorda, non di rado, il layout di una colonna giornalistica. Un'altra ipotesi interessante è quella che la calligrafia dei microgrammi sia un esercizio di bella scrittura. Walser, che fin da ragazzo aveva una grande familiarità con la scrittura, avrebbe elaborato nei microgrammi una sua nuova forma di bella scrittura. E questa è l'opinione diretta Sork, Lucas Gisi e Peter Stocker del Robert Walser Centrum di Bern che affermano se interpretiamo dunque la micrografia come bella scrittura e teniamo conto del fatto che Walser rendeva la scrittura e la lettura temi della sua opera, giungiamo per via diretta a uno degli ideali della letteratura moderna, non riferirsi a nient'altro che a se stessa. nel territorio della matita nel territorio della matita la scrittura che è protagonista unica e assoluta sembra configurarsi come pratica di tipo biologico si potrebbe dire il cui respiro trova un equivalente nei reticoli verbali costruiti dall'autore e nelle svariate fisionomie che si profilano sul foglio microgrammatico la strega di quanto avviene nella poesia visiva. In un suo libro intitolato La parola dipinta edito da Adelphi padre Giovanni Pozzi si era occupato della poesia figurata dai versi in tessuti di Porfirio e Rabano Mauro ai calligrammi di Apollinaire i microgrammi di Walser fanno pensare a una parola dipinta a una parola disegnata a una parola raffigurata. Così le cornici all'interno delle quali si sviluppano i testi assumono le forme più disparate e spesso le varie composizioni vengono fra di loro in contatto oppure una scrittura sembra fagocitarne un'altra o ancora pur di prendere forma un testo aggira o scavalca i margini del testo contiguo e va anche rilevato che in più casi il testo appare non concluso e queste oscillazioni esitazioni omissioni o scorie di laboratorio come le ha chiamate Morland permettono al lettore di osservare da un punto di vista privilegiato la scrittura di Walser Scusa mi sentite? Sì Ecco e successivamente diciamo un parallelismo con l'artista Rotko quindi Andrea io sospenderei un attimo le immagini di Rotko e darei diciamo una priorità al territorio della matita ti avviserò io Andrea quando esporre le immagini inerenti Rotko allora un appunto per il pubblico chi vuole volesse fare domande o delle annotazioni può sulla nuova mail digita chiocciola laterziavia.org porre queste domande oppure nella pagina Facebook o nella pagina della della piattaforma del sito della piattaforma stessa dove in questo momento è nata la diretta bene scusate l'inciso riprendo il discorso del territorio della matita che non può svincolarsi dallo studio della calligrafia la quale ne attesta il valore la prima disegnatrice è la scrittura a mano l'idea che occorre farsi è che l'opera dei microgrammi balseriani possa essere irrigata dall'approfondimento della grande figurazione calligrafica il territorio della matita è zona condivisa con tutto il corpo dello scrivere protetto nel luogo del frammento nel guscio della micrografia la calligrafia può nel dare forma al segno riservare al visibile una posterità aprendo una crepa nella significanza che fa pensare a una sorgente diviene sembianza di parole vibrazione che si arrischia ad essere materia trasfigurata perché ci sono tratti che vengono a contatto con qualcosa che non si può esprimere che appare e scompare lo stato di colui che opera con la parola fa vivere al segno il suo assoluto in una metrica di respiri e nell'ispirare e nell'espirare c'è un silenzio dentro la precisione dello sguardo il movimento segue un disegno sconosciuto e una legge infligge un ordine di realtà il libro del Tao dice che la via che può essere detta via non è la vera via traccia così la traccia che crede di avere una forma non è la vera traccia c'è una dimensione cui la parola non ha accesso un punto che non è dicibile ed è poesia così esile si arrischia e ci sorprende nella precarietà dell'acquisito la traccia che riscopre nel più profondo di sé un nocciolo di invisibile può giocare nella composizione in prosa o in poesia una doppia forma di parola e di figura i segni non sono nati per essere reclusi così la forma della scrittura è capace di creare bizzarrie i segni vengono da un tocco e si lanciano in vie impreviste aprono ciò che sembra chiuso lo scrivente ha trattenuto quella spinta alla profondità irrappresentabile ha enunciato le percezioni sensoriali ciò che a noi si sottrae alla vista ma che sul foglio trabocca la miniatura la miniatura lascia un corpo sulla pagina vuole testimoniare più dell'esperienza di dita che creano con un pennino a tre soli peli è un atto di unità originaria l'autore si mette in cammino ci rammenta che la calligrafia estrae dall'essere la sua presenza tutto si gioca nei segni in loro subentra una forza severa e il cuore infonde intermittenze al tratto crea la via ogni segno ha un silenzio dentro e un potere di trasgressione nella significazione non corre più del tempo testimoni alla fame di senso i dadi dei segni rotoleranno nel linguaggio fino a dare un fuoco selvaggio al microgramma un'avvisaglia alla nostra coscienza nel grado più intimo il microgramma libera una figura della lingua che non è più ciò che si credeva di conoscere parimenti alla riflessione poetica la scrittura a mano non è obbediente conserva una profondità di luce da cui ha preso vigore nell'atto sospeso della matita in cui essa non sa più nulla respira il mistero prorompe il dubbio per poi ricevere una parola che è un corpo così è amare vedere l'altezza la larghezza la proporzione e attraversare ciò che non ha voce mentre il braccio si alza per liberare l'enigma della parola verso il nocciolo delle cose il rapporto con la voce conserva il senso del suono stabilisce un dialogo con il fuori con l'ignoto ma dopo tutto è proprio questa la gioia quando la mano azzarda il grande compito sul foglio una seconda riflessione mi porta a un parallelismo con l'artista Rotko Mark Rotko classificato come espressionista astratto secondo lui l'interpretazione deve emergere da una profonda esperienza tra l'immagine e l'osservatore vediamo l'immagine che Andrea ci sta mostrando di Rotko nato il 1903 e mancato il 1970 e fa parte di quella generazione che ha portato alla coscienza una dimensione porduta dell'essenza e della forma fu rivoluzionaria la ricerca di una chiave smarrita dell'assoluto nell'ora che fugge la chiave smarrita che grava sui segni di Robert Walser ecco vedete questi sono diversi quadri come la forma e il colore Rotko aveva detto non mi interessano i rapporti di colore di forma o di qualsiasi altra cosa mi interessa soltanto esprimere emozioni umane fondamentali similmente a Rocco Walser l'intento era di dare voce al dramma e all'estasi vediamo come parimenti queste immagini che mostrate ecco qui il microgramma 488 di Walser ecco anche qui vediamo che nella forma la forma richiama molto a Mark Rotko i segni sono capaci di aprire lo spazio dell'essenza e della forma la vocazione per la verità essenziale come in Rotko la forza emozionale della composizione visiva stabilisce un significato che va fuori dal campo dell'opera è un'apertura di senso ai vuoti pieni ecco quei vuoti pieni come quelle linee che quasi separano ma in realtà uniscono le due dimensioni di colori di Rotko ecco in realtà ecco quell'orizzonte di vuoto è pieno il legame tra la microscrittura scaturita da un processo portato alla luce e il luogo della vita riconosce all'interiorità il sacro sparso nel lento fluire delle cose scrive Walser ciò che perennemente scorre costringe a una moralità la grande arte consiste nel rievocare nella rievocazione della presenza nel partecipare contemporaneamente a un dramma e a un'estasi nel rispondere a un assoluto piuttosto che a un appetito Walser riesci benissimo a vivere senza che nessuno si ricordi nemmeno lontanamente della tua presenza esistenza Walser gioca sul piano metaforico immaginifico dei microgrammi l'aggressione e la violenza ciò che è stato più vicino in quello smarrimento antico la profondità di respiro gioca il rapporto tra microimmagine e osservatore e se ciò che vi è rappresentato abbia un significato vediamo che sia in Rocco che nelle microimmagini di di Walser entrambi sono pieni di luce interiore la simmetria della forma in un contenuto criptato com'è piccola qui la vita e com'è grande il nulla in ogni lavoro di Walser risuona un certo segreto con mani che si aprono dolorosamente ogni microgramma è generato da una morsa ne è il riscatto ogni passeggiata era la via con cui lei la poesia veniva l'ingresso era dove si assepavano le lacrime quando scopriva dalle mani il viso tutta la vita di Walser ci affida un segreto prima criptato perché si attuano i procedimenti che ne attestino l'eccezionalità che resta e non passa e poi restituito a un'esperienza radicale spirituale a una tensione verso il senso interiore dell'esistere nella suave luce d'amore credetti di poter capire o di dover sentire che colui che veramente esiste è solo l'uomo interiore un sì alla vita si esplica in ciò che della sua identità è salvabile in quell'amore silente da cui si libera l'essenza il sentimento dell'universo e prende forma il grande stile me ne sto prigioniero del malumore e di pensieri angoscianti questo è il sacrilegio grazie io ricedo la parola al poeta Antonio Rossi grazie grazie a Patrizia Trimboli per le sue considerazioni per i suoi approfondimenti io avevo pensato di soffermarmi su una poesia dei microgrammi i microgrammi tramandano testi di vario genere prosa un romanzo dei testi teatrali e molte poesie e ho scelto di dedicare attenzione a una poesia che per me è una delle più stupefacenti e vorrei leggere provare a leggere questa poesia prima nella versione originale e poi nella traduzione italiana che è stata pubblicata nel catalogo della Musica di Mendrisia traduzione che è stata realizzata dal sottoscritto e che veramente mi ha mi ha portato a dover affrontare tantissimi problemi in buona parte credo non risolti dopodiché vorrei fare un breve commento questa poesia si intitola In the Rise Corp o Der Vesce Corp nel cesto da viaggio o per la biancheria io dovrei mostrare l'immagine del microgramma così torniamo anche vediamo un po' ecco qui ecco questo è il microgramma che contiene la poesia nel cesto da viaggio per la biancheria è il microgramma 236 e risale all'inverno 1925 26 la poesia è quella che si vede in alto segnato con un un contorno rosso questo è un particolare della stessa poesia che permette di vedere un po' più da vicino questa micro grafia e lego il testo tedesco e poi leggere la traduzione in the Rise Corp o der Vesce Corp dovrebbe esserci ecco qui una trascrizione diciamo in the Rise Corp o der Vesce Corp In the Reise Corp o der Vesce Corp der in meinem Schlaf Gemach steht räuspert es sich nachts als lege dort jemand und als sece auf dem Corp ein wispender Sklav mein grausamer Diener mein fester Entschluss mir selbst zu gehören Mein Gedanke der kennt mich mir ist oft was ich denke fürchterlich und steige aus der Nachtzeit wie aus granitem Grab und aus gespenstischem Schlaf wie aus vieler armer geplagter Seelen gleiche Bilder um ihre schläfen schleudern der Vergangenheit und kann am Morgen meines Lebens wieder froh sein niemandem wünschte ich er wäre ich nur ich bin im Stande mich zu ertragen so vieles zu wissen und so viel gesehen zu haben und so nichts zu sagen Nel cesto da viaggio o per la biancheria Nel cesto da viaggio o per la biancheria che si trova nella mia camera si sente di notte un raschiar di gola come se dentro ci fosse qualcuno e come se sul cesto fosse seduto uno schiavo bisbigliante il mio crudele servitore il mio fermo proposito di appartenere a me stesso il mio pensiero mi conosce bene ciò che penso spesso mi spaventa ed esco dalla notte come da una tomba di granito e da un sonno spettrale come da un passato che pallide immagini di tante povere anime tormentate intorno alle tempie scaglia e posso all'indomani di nuovo tornare alla vita a nessuno auguro di essere quel che io sono solo io sono in grado di supportare me stesso sapere così tanto e così tanto aver visto per non aver nulla proprio nulla da dire nel titolo della poesia appara l'immagine del cesto da viaggio che sembra tra l'altro in linea scusate io mi accorgo solo adesso che ho letto la versione italiana senza mostrare la medesima ecco qui dovrebbe comparire nel titolo appare l'immagine del cesto da viaggio che sembra in linea tra l'altro con le biografie dell'autore e Valser nella sua vita cambiò non meno di 70 volte il proprio luogo di residenza e quanto al cesto siamo di fronte a una sorta di doppia identità come si deduce dai primi due versi nel cesto da viaggio per la biancheria che si trova nella mia camera nella camera del protagonista si trova un cesto da viaggio che all'occorrenza può anche fungere da cesto per la biancheria il verso successivo si sente di notte un raschiar di gola specifica qual è il momento in cui si svolge alla scena descritta ovvero durante la notte per la precisione l'ambientazione notturna si estende dal verso 1 al verso 15 intorno alle tempie scaldia mentre i cinque versi conclusivi mostrano il protagonista all'inizio della nuova giornata esiste quindi una bipartizione della materia distribuita sia pure asimmetricamente tra la notte e l'arrivo del giorno nel verso 3 si sente di notte un raschiar di gola viene registrato un segnale inquietante un suono gutturale proveniente dal cesto il protagonista crede di aver udito appunto un raschiar di gola quindi un essere umano sconosciuto un'oscura presenza minacciosa si cera nel cesto a proposito del raschiar di gola sono due le ipotesi formulate tramite la figura della similitudine c'è qualcuno all'interno del cesto oppure qualcuno è seduto sul cesto la misteriosa presenza riceve poi una mutevole identità è uno schiavo visbigliante è il crudele servitore del protagonista o passando dal concreto all'astratto è il proposito del poeta di appartenere a se stesso cioè di ricondurre il proprio io lacerato da una sfera individuale per quanto possibile unitaria nel flusso delle immagini interviene a questo punto il pensiero del protagonista che si pone come una sorta di alter ego del poeta in grado di scrutarne l'interiorità e di generarvi paura e negatività e a proposito di pensiero scrive Valser in una prosa contenuta dai microgrammi poiché il bambino è buono e ingenuo il pensiero in sé non pensa a nulla è semplicemente il pensato non il pensante ritrospettivamente possiamo forse ritenere che le figure dello schiavo bisbigliante e del crudele servitore siano a se stesse delle personificazioni del pensiero dell'autore si tratta di un pensiero che causa turbamento come attestano i versi 9 e 10 mir ist oft was ich denke fürchterlich ciò che penso spesso mi spaventa a quest'altezza cioè i versi 9 e 10 si determina un vorticoso deterioramento della situazione lo spavento si trasforma in terrore l'orizzonte del poeta è attraversato da incubi da scene terribili che ricordano quelle previste per dai testi sacri o dall'arte per il giudizio universale e così la notte è per il poeta una tomba di granito spalancata da cui egli può uscire il suo sonno è simile a un passato che scaglia una moltitudine di anime tormentate intorno alle tempie ci si può chiedere e mi sono chiesto traducendo le tempie di chi del protagonista di altri esseri umani o delle anime stesse da notare che in comitanza con questa rid infernale anche la sintassi diventa aggrovigliata convulsa e di non facile neppure univoca interpretazione il sopraggiungere del mattino interrompe quest'atmosfera apocalittica consentendo al protagonista di tornare così parrebbe a riassaporare la vita e all'atmosfera spaventosa subentra in questi versi conclusivi un tono meditativo assertivo il poeta da una parte rivendica per sé l'unicità della terribile esperienza vissuta dall'altra dichiara l'impossibilità di condividerla anche solo parzialmente con gli altri versi 17-18 a nessuno auguro di essere quel che io sono solo io sono in grado di sopportare me stesso nei diversi finali so vieles zu wissen und so viel gesehen zu haben und nichts und so nichts so nichts zu sagen sapere così tanto e così tanto aver visto per non aver nulla proprio nulla da dire qui il sapere la conoscenza acquisita tramite le letture il contatto diretto con luoghi città opere d'arte non conducono necessariamente a contenuti consistenti e plausibili anzi la sensazione dell'autore è di non avere nulla da dire affermazione questa rafforzata dalla ripetizione di nulla nulla proprio nulla da dire è un giudizio spietato nei confronti della propria scrittura e anche allargando la prospettiva nei confronti della stessa letteratura intesa come attività conoscitiva e tuttavia libri e dipinti hanno pur sempre un valore si legge in una delle ultime poesie di Valls scritta nella clinica psichiatrica di Valdau libri e dipinti hanno pur sempre un valore vorrei leggere per concludere questo mio commento proprio questa poesia è uno degli ultimi testi composti da da Walser prima del suo silenzio come scrittore la poesia è considerata un frammento da parte degli editori dei microgrammi mi ricollego qui anche la dicitura che compare sull'annuncio di questo evento frammento su frammento leggo la traduzione italiana sempre del catalogo della mostra di Mendrizio mi hanno assegnato un rifugio mi hanno assegnato un rifugio in campagna un luogo leggiadro e ricco di ornamenti ora vivo in campagna abitavo un tempo in piacevoli oziose città non avevo nulla da fare se non sognare e riposare libri e dipinti hanno per sempre un valore abitavo un tempo in piacevoli eleganti graziose città qui nella vasta campagna svolgo lavori manuali libri e dipinti danno la vita perfino a un sempliciotto prendo dalla cevetteria quel tanto di poesia ma nel campo la poesia si interrompe qui e avrei terminato anche in questo modo il mio intervento e ringrazio per aver ascoltato e cedo la parola a Patrizia Trimbole grazie grazie a tutti volevo sapere Milena se c'erano delle domande oppure delle annotazioni sentite la mia voce sì sì io sento sì vedo che non scusate sì ok va bene grazie niente ho visto ho sentito appunto Milena che è responsabile della pagina Facebook mi diceva che appunto c'è stato un problema da parte sua di connessione comunque delle domande non ci sono quindi vi ricordo che la diretta è possibile rivederla in differita sia sul sito sia sulla pagina Facebook ringrazio vivamente tutti per averci seguito ringrazio il poeta Antonio Rossi e tutto lo staff della terza via il nostro progetto è chiamare alla coscienza un nuovo centro restando sensibili all'esperienza della bellezza buona serata continuate a seguirci arrivederci a tutti arrivederci